Siamo con la dirigente dell'Istituto Cestari che oggi ha portato in scena questo bellissimo spettacolo Mamma Mia Fioi, organizzato tra allievi e insegnanti. È stata una bellissima esperienza. Certo, dopo tre anni di pandemia non riuscivamo più a mettere in scena nulla per colpa del Covid e finalmente ci siamo riusciti con grandissima soddisfazione. Abbiamo visto che unendo tutte quante le sinergie dell'Istituto, in modo particolare gli insegnanti che con passione hanno dedicato il loro tempo e gli alunni, tutti gli alunni, per una grande integrazione siamo riusciti a realizzare quello che si desiderava da tanto tempo. Quindi sono molto contenta e soddisfatta perché questa è veramente una dimostrazione dell'unità dell'Istituto. Perfetto, prossimo spettacolo però ce n'è uno anche questa sera. Certo, quindi purtroppo non possiamo aprire le porte per tutti ma soprattutto per i genitori che sicuramente saranno presenti. E saranno orgogliosi dei loro figli. Sono stati bravissimi. Certo, tutto quello che sono riusciti a fare e costruiti in questi mesi. Grazie infinite. Grazie a voi. Vi presento in questo caso Gonzaga Food che è un laboratorio artigianale di Mantova. Tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartuffi al rum. I tartuffi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è. Quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini. Sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti. Grazie a tutti.